Perfetto, da oggi si va in vacanza. Oggi parto per la gita scolastica, è previsto che il treno arrivi a Kyoto nel pomeriggio. Speriamo di ricevere dei bei ricordi. Oh, una cutscene, finalmente! Lo ripeto, è un evento talmente raro che ogni volta mi sorprende. C'è un luogo, non? Non riesco a pensare? No, penso che era un luogo corretto, un luogo più bello. Chissà, non è vero. Come, ti trovi a te scoprire, non? Quindi? Fai... Alla stazione di Kyoto siamo saliti su un autobus per turisti Il sole sta già tramontando Wow, un giorno perso insomma Higashi Yama Sanjo, pensione Godaigo Sì, non mi dispiacerebbe andare in un posto del genere Effettivamente me lo stavo chiedendo Ma non era il mio primo pensiero Vuoi venirci sotto anche tu? Andiamo allora A parte che stavo guardando gli zaini Junpei è quello con lo zaino più enorme di tutti Cosa hai visto, Aegis? Ah, il laghetto Non credo, sai? Quello è il cortile, esatto Perché non lo scopri tu? Ma Io c'è Andrei Sai che non mi ricordo Beati voi che avete modo di ricordarvelo a una gita Io il massimo a cui siamo andati nel mio periodo Medi elementari era Crespi Dadda Non so se voi la conoscete Ma è una desolazione di niente Tetti tutti uguali Tutte quante strade uguali Non c'è nulla Crespi Dadda Bella per carità Eh, però Siamo davanti una finestra Maya Ciao ciao Dove state andando voi due? Scusami Oh no Oh no Ha copiato Junpei È uguale a lui ora Vabbè È il momento di esplorare Questo è un negozio di souvenir Uh, ciao Bebe Oh, Phoenix De No Buonasera Sono felice che ti diverta Eh, magia Vabbè guys Sono contento per te C'è qualcosa da vendere? Eh, cosa desidero Non lo so Sono oggetti sicuramente unici Quindi Compro tutto Allora, Maya Come va? Sbrigatevi e tornare in stanza Non voglio prendere una strigliata Per colpa del vostro comportamento Sì? Non sai qual è la tua stanza? Non lo so Mmm, Starcoon Per raggiungere la tua stanza Sali le scale e gira a destra La tua stanza è sulla destra Al fine del corridoio Chiaro? Ora va Certo, grazie Sapevi che queste terme sono molto famose? A intervalli di qualche ora C'è una sorpresa Immagino che sorpresa Ho cercato di svignarvela Ma mi hanno beccato lo stesso Beh, ora dovremmo andare nella nostra stanza Dai, sbrigiamoci Se no la prof Toriumi si arrabbierà con noi Andiamo allora Ehi, voi due Ah, tutto a posto Vuoi andare a spiare le donne, vero? Meno male che Miyamoto è intelligente Non ti azzardare ad andare a spiare la mia ragazza Hai capito? Quella si chiama immaginazione Oh, lasciaglielo credere Oh no, ha puntato sullo spirito dell'atleta Oh no, ha ragione Oh, il mondo è pieno di sorprese Adesso guarderò oltre il muro Vabbè, andiamo di sopra Ah, ma c'è altra gente qui Ah, ciao tesoro Cioè andiamo a fare un giro alle terme? Vabbè Vabbè Guarda che stare fermi nel treno a fare nulla È comunque noioso, eh Soprattutto assieme, immagino E tenerci per mano Ah, peccato non poter essere in stanza assieme Dio mio Quanto ti colpisce al cuore No, adesso ci vado È esattamente quello che cercavo Dentro una macchinetta Ma vai a comprare qualcosa di sotto, scusami Durian soda, succo giambo e V6 Io compro tutto Allora Sanada, com'è? Beh oddio, mica tanto Se ti fanno uscire, tanto meglio per te Ciao voi due Beh, sto solo visitando le varie stanze Ah, bravo Finalmente Qualcosa da giovane Ma porca Ma perché mi sembri Maruki tu? Chissà chi l'ha finiti Era una testa, davvero? Ecco ti pareva Che roba triste da dire E andiamo ancora più di sopra Ah, Mitsuru, ciao Oh, sei tu Ok, grazie Mi stavo chiedendo dov'è Ciro Poi mi sono ricordato che è del primo anno Lei Vabbè, andiamo a dormire Gita scolastica Secondo giorno Itinerare di oggi Visitare i siti storici di Kyoto Ma che bella la fotografia Ho fatto un giro turistico di Kyoto In autobus Visti di persone I siti storici sono molto più interessanti Che in foto Nel pomeriggio ci siamo divisi Al fiume Kamogawa Vicino all'hotel Oh, finalmente risvegliamo la persona Dai Ma che finita Dobbiamo tornare nel tartaro Quando mai Siamo amiche Perché non è ancora finita Non è ancora finita Se non l'avessi fatto all'inizio Ora non saremo qui Lo sapevo che lo faceva Dio mio, brava Lo sapevo che glielo avrebbe dato uno schiaffo Non è ancora finita Siamo afferminado Bello Ma faccio Miro Mi Si Mi 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 Oh, l'ha capito, finalmente. Ti giuro che se arriva Ryoji di nuovo, Dio mio, lo buttano nel fiume. ... ... ... ... ... E anche voi, e anche voi. Senni... Eucari, potete venire con noi? Ok. Allora, torniamo a un rottemolo. Un giorno? Non lo vediamo ancora? L'ottemolo del rottemolo è davvero davvero. E' bene, e ora... ...dicela, per quanto riguarda il nostro corpo. E... ...Eccolo, sapevo che lo diceva. E' pure... ...Eppure è rossita. E' rossita pure lei. E' rossita pure lei. Ora, ora, andiamo. E' già già passato. 3, 2, 1... Brava che l'hai capito. Vediamo come si evolve la sua persona. Ok. Eeeh, ha una frusta adesso. Molto bella tra l'altro. Non mi dispiace. La determinazione nel cuore di Mitsuru ha risvegliato la sua nuova persona. La persona di Mitsuru, Pentilsilia, è diventata Artemisia. Bella, mi piace. Attacco divino ingente a un nemico. Diminuisce tutte le sue statistiche. Sti cazzi. Hm. Molto bello. Attacco divino, tanta roba. Ah, siamo con lo Yukata. Sì. Sì, tu no invece. Sì, tu no invece. Beh. Non potevi chiedere una mano. Ma povero. Ma si potevi chiedere aiuto a qualcuno, no? Voi due invece? Oh. Oh. Ma è il Yukata? Molto bene. Forse sei tu che sei troppo lento. Ti ha impedito di andare a vedere le ragazze. Beh. Ma tu non dovevi farti controllare il ginocchio? Sì. Sì, gli atleti. Non le persone normali però. Tu niente Yukata tesorino Yuko. Oh. Grazie. Ti sta molto bene. Oh. Oh. Sì. 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 No. Non dire queste cose mi fai stare male. Ti vergognavi? Perché? Ti vergognavi? Perché? Sì. Sì. Ma... Sono una persona diversa anche con te, piccolina. E' invidiosa. No. Che cosa brutta che ha detto. Cioè... È brutto che l'ha detto perché vuol dire che il nostro personaggio lo fa davvero. Che stronzo che sei. Non è proprio come se... Invece sì ti importa. Oh. 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 Scusate. Scusate. Oh. 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 Chiusa lì. A posto. Piccolina. Staresti benissimo con lo Yucata tu. Ha. Anche tu con lo Yucata eh. Sì. Ho visto. Sì. Siamo tutti contenti. Oh. Aspetta. C'è un evento qui o sbaglio? Anche lui con lo Yucata. Cosa vuoi da me? C'è Fuka e anche Aegis. L'hai vista anche quando l'ha menata? No. È perché ora sono più vicine. Dimmi pure. Oh. Phoenix-kun. Ho un favore da chiederti. Yukari-san mi ha detto che la riva del fiume qui vicino ha una vista stupenda. Ti va di andarci con me domani? D'accordo. Ottimo. Sembra un'ottima idea. Verrò a cercarti quando inizieremo a tornare a casa domani. Non vedo l'ora. Però per oggi. Torniamo in stanza. Chissà con chi la dividiamo noi tra l'altro. Altre fotografie? Gita scolastica. Terzo giorno. Itinerario di oggi. Tempo libero in città. Che belline. Bella questa. Mitsuru sembra essere di buon amore. È amichevole con i compagni di classe e specialmente con Yukari. Chissà cosa è successo. Chi lo sa. Chissà cosa succedeva se non glielo promettevamo. Eh beh. Soprattutto quando non conosci un posto. Sì, è molto carina. Sì, è molto bella. E mi ricorderò di questo giorno. Esatto. Ed ecco come distrugge il momento. Ed ecco come distrugge il momento. Tipo Gemon. È vero. In molte rappresentazioni il fiume è il passaggio per l'aldilà. L'ho visto in molti anime anche. Sì, un giorno però. Per non stare soli prima di quell'addio. No. Perché non importa il finale. Importa il percorso che hai fatto per arrivarci a quel finale. È inevitabile stringere legami. No. Quello no. È una tua scelta farlo. Oh. Visto, l'ha capito. Non importa la destinazione, importa il percorso per arrivarci. Quindi mi aumenti di uno tutte le mie statistiche ora? Oh. Beh, forse è così. Beh, perché non lo siamo anche noi? Ho passeggiato sulla riva Coriogi, poi ho fatto il ritorno al dormitorio. Sento che di comprenderlo un po' meglio. Tutte più uno. Ho ricevuto un messaggio. Andiamo le terme, ci andiamo, non accetto discussioni. Insomma, dobbiamo farlo, vediamoci quando sei libero. Dovrei parlare con Junpei più tardi. Sì, signore. Ehi, Eegis, che ci fai qui? Duh. E tu non hai spiato nessuno, vero? Duh. Eh. Dovevi pensarci prima, mi sa. Beh, oddio. Questo è crescere fra. Certo, certo, certo. Allora, piccoletta. Eh, lo so. Purtroppo, purtroppo le cose belle finiscono. Sarebbe stato bello stare insieme, vero? Mi sono sentito anch'io, solo, senza di te. Eh, già. Eh, già. Eh, già. Eh, già. senso scusami eh ti pareva oh è rossita solo una? tutte quante quelle che vuoi dai gliel'ho promesso dobbiamo uscire le terme sono così le terme sono così rilassanti ebbè ci sei già andato quindi allora Junpei cosa vuoi fare? dai andiamo allora immagino il tuo grande piano andiamo a prepararci per le terme ebbè certo se no saremmo tutti assieme corca troia Junpei potrebbe tornarci indietro questa situazione siete due idioti voi due Sanada è troppo ingenuo per arrivarci siete due carretini ma quello ancora di più Junpei e Ryoji sembrano comportarsi in modo strano chissà come mai chissà qual è il grande piano di Junpei yori ora ora siete due cretini voi due a parte tu quanto sei bianco è stra pallido se guardi il modello di di Sanada nel disegno certo come no Certo come no Aigis sì ma diteglielo prima che entrino no ebbè certo Aigis lo sapevo eh ma va davvero io credo che ci ammazzerebbe fra esco allo scoperto glielo dico no ti prego usa usa la sua persona davvero e ci trova subito ah ok no ma forca puttana ok stare dietro la roccia non è sicuramente il modo migliore per nascondersi tutto il tempo quindi usiamo il vapore eh certo mica sono capo dell'operazione per niente oh no c'è fuga Iwakage non c'è nessuno c'è nessuno guarda non c'è nessuno è tranquillo quanto è innocente sta ragazza oh no ci stanno per vedere e c'è una paperella la paperella la paperella farà da specchietto per le allodo le corriamo l'uscita usa la paperella come diversivo effettivamente effettivamente non so perché abbia detto sta frase cioè dici lancia la papera e basta è una paperella idiota c'è anche Iji si nacqua uscite forza tu seguimi e sta zitto è l'unico modo per salvarci se stiamo qua è peggio fidati correte forza correte piano però cosa hai visto qualcuno beh meglio così forse ci menavano per davvero adesso muore sviene che commento è scusami stai studiando tutte le ragazze Aigis ah ho capito Ma povera Fuka Vabbè Niente quindi siamo già tornati Oggi si conclude la gita scolastica Ok no questo è l'ultimo giorno Prenderemo lo Shinkansen e le lasceremo Kyoto Fino ad allora sarò libero Forse possiamo ancora fare qualcosa E non c'è proprio voglia stronzi Ma no è ovvio Quando sei con gli amici Sei citto cretino Assolutamente niente Vai tranquillo Ma è che non all'incirca cinque mesi Me lo porto di sicuro Ah proprio così ormai Oh salve Wow è passato in fretta il tempo Oh cavolo sono proprio stanco Ma è stato super divertente Ti ho portato alcune storie e souvenir Te le racconterò dopo Oh ok Allora aspetterò con ansia Stanotte non possiamo andare nel tartaro Siamo troppo stanchi Andiamoci domani notte Anche se non abbiamo più nulla per cui combattere Ne sei sicuro Oh Coromaru ci aspettava A proposito abbiamo sentito qualcosa Mentre facevamo il bagno Probabilmente era una scimmia Mi stai ascoltando Stai sudando Va tutto bene Oh no C'hanno quasi sgamato Cosa c'è Phoenix-san Sembra in agitazione Quando ci sono le ragazze paraggi Deduco che tu stia nascondendo Qualcosa di importante Come mai siete separati Dalle ragazze voi due Potrei uscire con lui Effettivamente oggi Però Quasi quasi vado al centro commerciale Dai Per il momento Non ho nulla da recuperare con nessuno Oggi di nuovo agilità D'accordo Ma nulla che aumenta la fortuna Grazie a tutti